buongiorno da carasco siamo ospiti della north sales talia in compagnia di michele malandra uno dei disegnatori della veleria michele andiamo a vedere un argomento molto particolare parliamo di rinforzi sulle vele tipi di rinforzo differenza tra vele cuscite e poi andremo a vedere anche delle membrane cosa ci fai vedere in questo punto il primo punto in cui sono necessari rinforzi sono gli angoli delle vele dove ci sono le concentrazioni maggiori di sforzi questa è la mura di una j70 dove vediamo che i pannelli sono stati tagliati in modo da orientare le fibre del tessuto più resistenti a concentrarsi nell'angolo qui c'è un piccolo rinforzo perché le tensioni sono abbastanza basse alla mura se ci spostiamo sulla bune ti seguiamo vediamo un rinforzo decisamente più strutturato quello che noi chiamiamo una stella che va sia a concentrare gli sforzi sia a formare uno spessore dove poi si posiziona l'anello in modo da sopportare quelle che sono le tensioni della scorta invece qui abbiamo una membrana spiegaci la differenza per quanto riguarda i rinforzi li abbiamo visti su una vela cuscita indagron come funzionano invece qui siamo sulla mura mentre nella membrana di una vela pannellata tutti i rinforzi vengono aggiunti dopo aver terminato diciamo il triangolo per essere semplici in una vela 3 di ai tutti i rinforzi vengono stampati nella laminazione quindi la pelle arriva già completa di tutto quello che è necessario al resistere alla concentrazione degli sforzi nell'angolo le uniche cose che vengono aggiunte nella fase finale in veleria sono dei rinforzi indagron negli angoli per sopportare meglio le cuciture degli zerbi che andranno a sopportare le tensioni vediamo però in questa particolare vela che è un fiocco di un dp52 con una struttura elix quindi con una inferitura rinforzata è rimasta come strato più esterno proprio questa lente di nastre di carbonio che serve a distribuire anche sulla vela la tensione dello strato come appunto si fa in tutte le vele a struttura di interitura rinforzata e anche questi rinforzi di cui ci ho appena parlato vengono diciamo laminati in modo solidale alla vela giusto assolutamente quello che arriva qui è un composito può essere paragonato sostanzialmente a uno scappo come tecnologia con l'unica differenza che rimane flessibile quindi tutta la pelle è fatta in un peso unico stampata sotto il sacco del vuoto e lasciata catalizzare per il tempo necessario a realizzare un manufatto strutturale grazie a tutti grazie a tutti